Possiamo dire che finalmente è trasversale la coscienza che è indispensabile cambiare rotta, che l'ambiente non è un peso ma una risorsa, un valore? Io lo dobbiamo assolutamente dire perché credo che sia l'elemento culturale più importante di questi nostri anni e soprattutto in un momento storico in cui l'America rischia di su questo smarcare, e vedere nella lotta ai mutamenti climatici un limite è fondamentale che il tema ambientale invece sia assolutamente non un tema di parte, una questione da ambientalisti, ma che invece venga riconosciuto e praticato soprattutto dalle imprese, dai governi, dai decisori politici. Su questo io credo che il mondo economico sia abbastanza avanti, che in Italia abbiamo delle ottime esperienze, che ci permetterebbero di essere il leadership della Green Economy sicuramente in Europa e soprattutto sono la migliore dimostrazione, al di là di quello che dicono gli ambientalisti, che l'ambiente non è un limite ma ormai è un orizzonte di sviluppo. Indubbiamente la posizione di Trump rispetto agli accordi di Parigi è stata, non possiamo dire una doccia fredda, probabilmente ce la potevamo aspettare, però sicuramente è stato un punto di rottura. Però i territori in qualche modo sono in sorte, negli stessi Stati Uniti tanti hanno detto comunque a noi non va bene, nonostante tutto, nonostante no, nonostante le rigidità bisogna andare avanti. Assolutamente, a me colpì molto il fatto che appena eletto Trump ricevette una lettera firmata da 300 grandi imprenditori americani che sostanzialmente lo sconsigliavano, gli chiedevano di non uscire dagli accordi di Parigi. La battuta all'epoca fu, sarà il capitalismo a salvare il clima in qualche maniera, è una battuta fino a un certo punto, il fatto che Trump stia ricevendo delle critiche feroci in padre e anzi dalla California fino allo stato di New York, tutti stanno dicendo che loro invece andranno avanti proseguendo gli accordi a favore del clima, credo che sia la migliore dimostrazione che uno come Trump può naturalmente rallentare la storia, ma la storia è in marcia e quindi il futuro ormai è questo.